Ma come cazzo si fa? Ma come cazzo si fa? Non credevo riuscissimo ad arrivare a tanto ragazzi, non credevo riuscissimo ad arrivare a tanto E dopo questa citazione di Sickwolf passiamo alle cose serie Oggi, 26 maggio 2021, Antonio Conte non è più l'allenatore dell'Inter E sinceramente oggi per noi interisti è un giorno triste Non possiamo farci niente, inutile prenderci in giro Oggi è un giorno triste, se siete veri interisti per voi è un giorno triste Per chi mi conosce al di fuori di Youtube, quindi chi sono i miei amici con cui parlo di calcio lo sanno Io sono stato con Antonio Conte dal giorno 1 fino ad oggi, fino al 26 maggio 2021 Nonostante io abbia fatto un video intitolato Conte Out ma non ho paura di dire che l'ho fatto Perché mi sembrava comunque un content, un contenuto divertente Tant'è che ho dei messaggi con un mio amico interista che provano, dei messaggi di quando ho messo quel video Che provano il fatto che io non volevo metterlo Perché in realtà non rispecchiava la mia idea Tra l'altro in realtà sotto ho anche lasciato un commento dicendo In realtà io non penso che Conte se ne debba andare ma sono a favore del fatto che lui resti Quindi insomma Sono stato sempre con Conte e ragazzi c'è poco da fare, perdiamo un grande allenatore Perché non scordiamoci che il 60% di questo scudetto è merito suo Perdiamo un grande allenatore, il miglior allenatore che abbiamo avuto post-Murigno Inutile prenderci in giro, inutile fare riferimento ai 12 milioni Quello che vi pare, regà, nel calcio la cosa importante è vincere Oltre alle emozioni, a livello pratico, tolte ovviamente emozioni, eccetera La cosa importante è vincere, Conte ci ha riportato a vincere Perdiamo un allenatore vincente L'unica cosa che voglio fare è ringraziarlo per tutto E sperare, augurare il meglio dovunque vada A meno che non vada in una squadra rivale Juve, Milan, dai, lasciamo perdere l'Italia Ora, in realtà io non so perché avevo letto che comunque la dirigenza voleva mettergli una clausola Che gli impediva di andare a allenare in Italia Perché comunque, diciamolo, Conte è un avversario temibile È un avversario che dovunque vada ha vinto Avversario, purtroppo, devo sottolineare avversario perché non è più il nostro allenatore Dovunque va, Conte vince E quindi speriamo che non vada in una squadra italiana Detto ciò, vedremo nei prossimi giorni gli allenamenti su chi sarà il nostro allenatore Ma oggi, ripeto, per noi è un giorno triste C'è poco da fare Ciao Antonio E grazie ancora di tutto